Poi abbiamo stretto un accordo con Edi Rama, il primo ministro socialista d'Albania, per aprire due centri in Albania, alleggerire la pressione sulle nostre coste, ottenere anche un effetto di dissuasione verso i migranti che vogliono arrivare in Europa. Apriti cielo. Dopo aver fatto di tutto per boicottare gli accordi di Tunisia e di Egitto, la sinistra è arrivata a proporre di cacciare Edi Rama dai socialisti europei perché aveva osato aiutare e mettersi a disposizione del governo di centrodestra per aiutare l'Italia. Invece di ringraziarlo per aver agito in nome della solidarietà europea lo hanno linciato. Addirittura il servizio pubblico italiano, Tele Meloni, avete presente Tele Meloni voi? Ecco, Tele Meloni ha confezionato un servizio sui centri in Albania nel quale in buona sostanza si dipingeva l'intera Albania come una sorta di narco Stato. Allora aiutatemi per cortesia a mandare a Edi Rama e a tutto il popolo albanese la nostra solidarietà per venire linciati solo per aver tentato di aiutare la nostra nazione.